Il risorgimento rappresenta una pagina fondamentale della storia d'Italia perché mostra come il nostro paese si è formato, è nato, con quali slanci ideali e anche con quali limiti ovviamente. E' un percorso lungo che inizia dall'inizio dell'Ottocento e si conclude nel 1861 con la proclamazione del Regno d'Italia e poi in realtà in parte continua anche dopo con la presa di Roma, con la presa del Veneto e poi forse addirittura anche fino alla Prima Guerra Mondiale. Oggi cerchiamo di presentarlo brevemente, l'ho già presentato in maniera più diffusa con tutta una serie di video che trovate linkati in descrizione ma oggi presentiamo uno dei nostri video sintetici in cui in un'ora presento un grande argomento in maniera chiaramente un po' più stringata ma in un modo che può essere utile dopo aver studiato per ripassare e rivedere un po' più velocemente i tempi principali di un periodo storico in questo caso del risorgimento. Andiamo a cominciare. Un socio di caffè nella sua altra tazza con la scritta andiamo a cominciare che è il mio marchio d'ordinanza come ci sono come al solito Topolino, Tolstoi, Batman, De Andrei, Il Mostro Peloso, Il Cuscino quest'altro mostro strano qui, io mi chiamo Armando Ferretti sono un insegnante di storia e filosofia, insegno nel liceo scientifico Paleocapa di Lovigo e da due anni abbondanti su questo canale realizzo video spiegazioni di storia e di filosofia a volte anche legate all'attualità all'educazione civica che seguono il programma che di solito si fa alle superiori con qualche approfondimento qua e là. Come vi dicevo, questo video di oggi appartiene però a un ciclo un po' particolare chiamato Grandi periodi storici in un'ora o Grandi filosofi in un'ora in cui prendo appunto un'epoca storica o un filosofo ampio a cui ho dedicato ore su ore di video e lo sintetizzo in un'ora. Sono video che non si sostituiscono ai video ufficiali, perché qua facciamo la sintesi ma sono video in più in cui dopo aver studiato sui video ufficiali quando c'è da fare un po' di ripasso, un po' di ricapitolazione possono essere utili perché magari in maniera più sintetica portano alla luce gli eventi principali. Oggi per un'ora parliamo di risorgimento qui il mio cronometro che sta andando avanti col minutaggio perché mi sono diviso la schialetta. Cos'è il risorgimento? È quella fase storica che attraversa l'Ottocento in cui a risorgere è l'idea di un'Italia unita un'idea di una unità nazionale che si concretizza poi nell'unificazione del 1861 ma che in realtà ha radici molto antiche ma anche molto parziali, bisogna dire così. Perché? Perché l'Italia era stata unita prima del 1861 secoli e secoli prima, cioè solo ai tempi dell'impero romano l'unico momento in cui la penisola italiana come la conosciamo oggi era stata parte di un'unica entità statale era stata ancora prima della caduta dell'impero romano d'Occidente. Da quel momento in poi, cioè dall'inizio del medioevo in poi l'Italia era sempre stata divisa a volte appartenevano alcuni pezzi d'Italia a identità sovranazionali ad esempio al sacro romano impero germanico a volte all'impero bizantino prima poi in altre situazioni si erano cercati di creare dei movimenti di unificazione ma sempre molto parziali regionali o al massimo sopra regionali con qualche pezzettino qua e là ma l'Italia era stata divisa tanto è vero che la stessa idea d'Italia a livello popolare di fatto all'inizio ottocento non esisteva non c'era un sentimento italiano nella popolazione nei contadini nella grande maggioranza della popolazione italiana non esisteva neppure una lingua italiana veramente parlata cioè esisteva la lingua italiana certo ma i cittadini umili non conoscevano l'italiano parlavano nel loro dialetto generalmente che somigliava all'italiano ma non era l'italiano non c'era neppure un'idea di nazione italiana insomma questo voglio dire esisteva un'idea di cristianità al limite esisteva un'idea di venezia di lombardi di emiliani di campani eccetera ma non d'Italia almeno nella sta grande maggioranza della popolazione faceva eccezione un piccolo gruppo ma importante di intellettuali che aveva mantenuto viva l'idea d'Italia ecco quello si in alcuni intellettuali già dal rinascimento ad esempio ma non solo nel nascimento alcuni intellettuali avevano portato avanti l'idea di un'Italia di un'Italia magari non politica perché non c'era ma un'Italia intellettuale c'era una lingua che magari era una lingua letteraria all'italiano che poteva essere usata per unificare chi stava a Firenze chi stava a Milano chi stava a Napoli chi stava a Palermo chi stava a Venezia come membri di un'unica comunità intellettuale questa idea però faceva fatica a passare dai ceti più alti intellettuali o nobili o comunque istruiti ai ceti più bassi faceva molta fatica a passare all'inizio ottocento si tentò però questo passaggio si tentò di coinvolgere un po' alla volta e con difficoltà le masse riuscendoci solo fino a un certo punto nel percorso di unificazione nazionale perché cos'è cambiato all'inizio ottocento che porta a questa revisione di tutto ciò direi tre fattori fondamentali da tenere in presente prima cosa da fine settecento inizio ottocento è arrivato Napoleone in Italia e non solo in Italia e l'occupazione napoleonica che ha portato a mettere insieme pezzi di territorio che magari da tempo non erano insieme ad esempio è rinato momentaneamente il regno d'Italia ha portato alcuni popoli a dire beh insomma adesso ci sono i francesi che ci stanno occupando ma forse in futuro potremmo riunirci senza più un padrone straniero primo elemento secondo elemento importante inizio ottocento si diffonde un sentimento nuovo che è il sentimento romantico che è un sentimento che insiste molto sul peso della storia e sull'idea di nazione per la prima volta l'idea di nazione diventa centrale nel dibattito intellettuale pubblico europeo non solo italiano anche polacco tedesco eccetera idea di nazione vuol dire anche pensare a qual è la nazione italiana cosa lega tra loro gli italiani terzo elemento c'è la restaurazione la restaurazione è quel tentativo varato tramite soprattutto il congresso di Vienna di riportare l'Europa indietro nel tempo questa restaurazione per opposizione genera in realtà un sentimento diffuso di novità una voglia di novità tu politico tu sovrano tu metternico chi per lui stai tentando di portare indietro le lancette dell'orologio noi invece vogliamo portarle avanti quindi guardare a un'Europa nuova a un'Europa delle nazioni delle nazioni unite quindi anche di un'Italia unita i primi segni della volontà di dare il via a un processo di unificazione nazionale comparvero in Italia tra il 1820 e il 1821 in corrispondenza ad altri moti che si stavano diffondendo nel resto d'Europa e comparvero soprattutto tramite alcune associazioni segrete in particolare la famosa la carboneria che si erano diffuse non solo in Italia appunto in questo clima della restaurazione erano società appunto segrete in cui i membri non si conoscevano generalmente tra di loro a cui si aderiva per portare avanti generalmente intenti di stampo liberale e borghese cioè erano persone nostalgiche per certi versi delle riforme portate da Napoleone dal suo esercito o comunque dalla rivoluzione francese che volevano combattere contro il clima di restaurazione quindi l'ansien regime in generale e spesso collaborando tra loro membri di queste società segrete erano per lo più giovani intellettuali universitari ufficiali dell'esercito borghesi a volte anche alcuni nobili di idee progressiste diciamo così però appunto queste società segrete erano segrete e spesso anche i piani di queste società segrete non erano molto chiari e limpidi cosa che ne rappresentava sicuramente il limite maggiore quando appunto nel 2021 queste società in varie zone d'Italia adesso le vediamo diedero via a intenti rivoluzionari in realtà finirono grosso modo per fallire magari ottennero alcuni primi risultati nei primissimi giorni di rivolta prendendo alla sprovvista l'esercito ufficiale i regnanti e così via anche perché appunto avevano preparato il loro progetto nell'ombra ma poco dopo venivano in genere sconfitte dall'esercito ufficiale perché? perché queste società segrete proprio per la segretezza dei loro piani facevano fatica poi a coinvolgere il popolo quindi erano rivolte di pochi ufficiali dell'esercito di solito che si faceva presto anche a sgominare quando li si isolava vediamo le queste rivolte la prima in assoluto avvenne nella Campania nel regno di Napoli in particolare partì da Nola la città appunto della Campania lì un gruppo di ufficiali dell'esercito campano in particolare il più famoso fu Guglielmo Peppe già al servizio della Repubblica Partenopea diede via una rivolta chiedendo al sovrano Ferdinando una costituzione l'intento molto spesso di queste società segrete era quello di arrivare non tanto o subito almeno a una unificazione ma intanto a ottenere nei loro regni una costituzione che concedesse alcune libertà ad esempio un Parlamento ad esempio una divisione dei poteri e così via il modello di riferimento era in genere la costituzione spagnola del 1812 che era stata varata dagli inglesi o meglio sotto leggi dagli inglesi durante il periodo napoleonico questa rivolta napoletana va bene in un primo momento sembra avere successo in realtà dopo pochi giorni dopo poche settimane il fronte dei rivoltosi si spacca proprio sugli esiti da dare a questa rivolta e il re Ferdinando facendosi aiutare dagli austriaci riesce a mandare l'esercito e a reprimere la rivolta un esito simile a quello che accade più o meno nei stessi giorni anche a Palermo perché poco dopo la rivolta di Nola anche a Palermo che fa parte dello stesso regno si ribellano Palermo però è una rivolta un po' diversa perché mentre a Nola in Campania volevano la costituzione a Palermo e in Sicilia in generale volevano non tanto la costituzione quanto piuttosto una qualche forma di indipendenza e di autonomia maggiore perché Palermo come tutta la Sicilia viveva con un certo smacco diciamo il fatto di essere stata degradata a rango di città di secondo piano all'interno dello Stato anche qui quindi è una rivolta importante in questo caso è una rivolta anche di massa perché si riescono a coinvolgere anche le masse popolari ma viene repressa molto duramente da Ferdinando quindi anche qui parziali successi all'inizio ma repressione molto veloce nel frattempo però anche al nord si tenta di fare qualcosa del genere d'altronde in questa Europa del 20 sono varie rivolte anche in Spagna e anche altrove quindi si tenta di cogliere la palla al balzo ad esempio in Lombardia si prova a mettere in campo con le società segrete una rivolta ma lì viene scominata prima ancora di riuscire a metterle in campo perché i due leader che si chiamano Pietro Maroncelli e Silvio Pellico vengono arrestati dagli ostriaci Milano e sotto l'Austria prima ancora che il piano possa essere messo in atto vengono processati vengono condannati al carcere prima a morte poi viene commutata la pena in carcere duro allo Spielberg nell'attuale nell'ex Cicoslovacchia fanno dieci anni di Spielberg poi vengono graziati prima della fine della pena ma in realtà tornano molto malati Pellico scriverà Le mie prigioni testo in cui ricorderà quegli anni e questo testo diventerà uno delle bibbie diciamo dei giovani risorgimentali italiani patrioti risorgimentali italiani ultima rivolta importante è quella del Piemonte nel 21 però quindi qualche mese dopo nel marzo del 21 un gruppo di anche qui ufficiali piemontesi capitanati in particolare da Santorre di Santa Rosa un nobile piemontese tenta di fare una rivoluzione anche qui per chiedere una costituzione il sovrano in carica che si chiama Vittorio Emanuele I preso la sprovvista preso l'incontro piede abdica in favore del fratello che si chiama Carlo Felice ma Carlo Felice in quel momento non si trova in Piemonte all'estero quindi nel frattempo mentre il fratello si prepara a tornare la reggenza viene assunta da un nipote che si chiama Carlo Alberto esponente di un ramo cadetto della famiglia Savoia sarà poi re più avanti questo Carlo Alberto aveva simpatie liberali e sembrava anche essere stato nei mesi precedenti abbastanza in contatto con Santorre di Santa Rosa e con gli altri rivoluzionari quindi sembra che i rivoluzionari stiano vincendo perché questo Carlo Alberto annuncia anche l'intenzione di concedere una costituzione quindi sembra dar ragione ai rivoltosi in realtà Carlo Felice torna in fretta e furia Carlo Alberto viene presto sconfessato e la rivolta viene piegata di nuovo con l'esercito di nuovo molto duramente tutte le promesse di Carlo Alberto vengono cancellate anzi Carlo Alberto in parte tradisce quelli che forse erano i suoi vecchi amici o compagni quindi 20-21 varie rivolte al sud Italia al nord Italia fallimentari che partono bene ma falliscono anche il 1830-31 è un biennio di rivolte in tutta Europa in Francia in Belgio anche in Italia anche se in Italia c'è un unico evento degno di nota che è quello che riguarda il Ducato di Modena Modena era un piccolo Ducato più o meno grande come la provincia di Modena attuale il cui Ducca era un esponente della famiglia degli Asburgo Este un ramo in cui siano legati gli Stensi e gli Asburgo e questo Ducca si chiamava Francesco IV qui a Modena un imprenditore non più ufficiale dell'esercito carbonale ma un imprenditore di nome Ciro Menotti ha un programma di rivolta che è in parte conosciuto anche dal Ducca cioè il Ducca viene a conoscenza di questo piano di Menotti e degli altri e lascia fare perché l'idea sarebbe quella di provocare una rivolta non tanto o non solo a Modena ma in tutte le Emilia Romagna in parte in Toscana e in generale con l'intento di dare via a una grande rivolta nel centro Italia che avrebbe caratteri poi di parziale unificazione cioè si dovrebbe arrivare a creare uno stato unitario almeno in quella fascia del centro Italia questo è il vago progetto iniziale e Francesco IV lascia fare perché pensa che questo possa giovargli magari io diventerò il re di questo staterello questa è l'idea il piano viene messo in atto ma poco prima di far partire l'ora X Francesco IV forse impaurito dalla possibile reazione degli austriaci tradisce Ciro Menotti lo fa arrestare verrà poi ucciso Ciro Menotti e il piano quindi abortisce in maniera molto tragica in realtà poi la rivolta scopre lo stesso in Toscana nello stato pontificio ma intervengono di nuovo gli austriaci a sedare il tutto quindi è un fallimento anche questo però due novità prima novità non più tanto gli ufficiali dell'esercito ma questa volta borghesi a smuovere la rivolta seconda parziale novità il tradimento dei sovrani dei duchi dei nobili che sembrano promettere ma poi non mantengono bisogna stare attenti a questi nobili che dall'alto non si sa quanto siano fedeli alla causa italiana il fallimento di questi moti del 20 il 21 del 30 e del 31 spinse alcuni intellettuali italiani a riflettere anche su come si era agito fino a quel momento e quali erano stati i limiti di questa azione e in particolare emerse un intellettuale che da lì in poi sarebbe diventato l'intellettuale di riferimento il più importante di tutti per il percorso risorgimentale questo intellettuale di riferimento è Giuseppe Mazzini uno dei grandi leader del tempo anche se poi sfortunato per molti versi all'atto pratico che era questo Mazzini era un genovese di famiglia borghese nato nel 1805 che in gioventù aveva aderito anche egli alla carboneria a queste società segrete ma proprio dopo i fallimenti del 30 e in parte anche del 20 anche se lì erano piuttosto giovani si era reso conto che i metodi usati dalla carboneria non funzionavano il limite maggiore di questi metodi secondo Mazzini era che agivano sempre nell'ombra nel segreto tanto è vero che a volte gli stessi adepti delle società non sapevano qual era il piano finale il piano definitivo in questo modo l'azione dei moti dei moti carbonari rimaneva limitata a poche persone senza riuscire a coinvolgere veramente il popolo invece per fare l'unificazione d'Italia per portare cambiamenti bisognava coinvolgere necessariamente il popolo secondo Mazzini questi delle andrò lavorando nel corso degli anni 30 e 40 soprattutto a Esule perché già negli anni 30 Mazzini dovete lasciare l'Italia Genova in generale l'Italia rifugiarsi inizialmente a Marsiglia poi peregrinò in varie zone d'Europa anche a Londra anche in altre parti perché rischiava l'arresto a Marsiglia in particolare quando arrivò piuttosto giovane conobbe anche Filippo Bonarroti già vecchio rivoluzionario italiano che aveva partecipato anche alla rivoluzione francese era stato seguace di Babbeuf e di altri e lì era stato istruito anche a come si era fatto in Francia per capire come fare ora in Italia quindi Mazzini inizia a elaborare un nuovo progetto politico che deve a coinvolgere le masse bisogna coinvolgere tutti i contadini il popolo tutti e per farlo bisogna B puntare anche su una nuova chiave che è quella di una sorta di religiosità politica cioè Mazzini è davvero un uomo non solo del risorgimento ma anche del romanticismo e vive la lotta politica come una lotta quasi religiosa religiosa non nel senso classico non nel senso di pregare Dio e la chiesa il papa eccetera ma una religiosità politica e laica per cui il lavoro per la patria per l'unificazione d'Italia è una missione che Dio ha dato agli italiani in un certo senso e bisogna combattere per l'unità d'Italia come si combatterebbe per la fede è chiaramente una fede tra virgolette laica però con lo stesso analito con la stessa spinta con la stessa fiducia anche con ritualità in un certo senso ovviamente anche la retorica un po' di Mazzini spinge molto su questo spirito italiano che deve riemergere e unificarsi c'è una forte spinta nazionalista nazionalista nel senso però democratico e non autoritario come sarà in altre situazioni in altre epoche nel senso che gli italiani costituiscono per Mazzini un popolo bisogna riunirli bisogna farli sentire prima di tutto nello spirito un popolo solo e da lì poi nascerà la lotta per la rivoluzione per l'Italia unita chiaramente bisogna unirli superando anche le barriere perché tra gli italiani ci sono al momento molte barriere in particolare Mazzini spingerà molto su varie strade per superare queste barriere ad esempio l'associazionismo in primo luogo cioè tutti gli italiani devono cercare di unirsi tra di loro a partire dalla famiglia che è l'unione base della società ma poi in associazioni sempre più larghe sempre più ampie anche tra classi sociali diverse Mazzini entrerà in rotta di collisione con i socialisti che inizieranno a emergere dalla metà dell'ottocento in poi litigherà con Marx ad esempio per dirne uno tra i grandi socialisti europei perché i socialisti generalmente insistevano per la lotta di classe cioè i proletari i poveri i contadini devono lottare contro i borghesi i ricchi eccetera secondo Mazzini questo non funziona non va affatto bene perché porta divisione all'interno del popolo il popolo deve lavorare unito anche lavoratori e proprietari devono unirsi devono collaborare magari in cooperative in altre forme di associazione anche economiche in cui si superino le divisioni si collaborano insieme per il bene comune quindi ad esempio appunto dal punto di vista economico Mazzini spingerà molto per le cooperative per cioè associazioni di proprietari lavoratori messe alla pari in cui come sapete in una cooperativa chi lavora è anche proprietario perché ha una quota della società questo sistema secondo Mazzini avrebbe potuto garantire maggiore unità del popolo maggiore coesione e quindi anche maggior lotta per l'unificazione italiana chi in Italia aveva in mente Mazzini aveva in mente un'Italia che diventasse tanto unita ma anche grande e importante lui parlava ad esempio di una terza Roma usando questa retorica delle varie Rome che tornano di tanto in tanto nella storia c'è stata una prima grande Roma che è stata la Roma dell'impero romano c'è stata una che ha unito il mondo tramite la forza delle armi c'è stata una seconda grande Roma che è stata la Roma dei papi che ha unito il mondo tramite la forza del messaggio evangelico ci deve essere una terza grande Roma che è la Roma dell'Italia futura quella da unificare che deve unire il mondo o meglio deve essere un fulgido esempio per il mondo sulla base dello spirito quindi di nuovo l'unificazione italiana deve diventare la spinta a una nuova Europa anche difatti lui fonderà la giovine Italia e poi la giovine Europa nuove associazioni politiche che vogliono portare all'unificazione dei popoli ma vogliono anche fare propaganda l'errore dei carbonari è stato quello di chiudersi nelle loro segrete stanze oggi dobbiamo invece fare propaganda politica quindi rendere chiari gli obiettivi del movimento scrivere giornali scrivere articoli coinvolgere le masse questa è l'idea pensiero e azione questo è il motto che spesso Mazzini tirerà in ballo cioè pensare ma poi anche agire e fare piani il messaggio Mazziniano è un grandissimo successo in Italia fino all'unificazione affascinerà giovani intellettuali italiani tra i tanti anche Garibaldi ad esempio che in gioventù fu Mazziniano fu costretto proprio a scappare dall'Italia per aver partecipato a molti Mazziniani ma generalmente negli anni 30 e 40 i Motti Mazziniani falliscono falliscono anche piuttosto miseramente l'esempio più famoso è quello dei fratelli Bandiera due Mazziniani Veneziani che partono della Marina Veneziana partono dal nord vanno al sud vanno in Calabria con l'intento di smuovere le masse contadine calabresi per far partire una rivolta e quindi conquistare territorio unificare eventualmente anche l'Italia e la tappa fallisce subito perché i calabresi quando vedono arrivarsi questi veneziani di cui non capiscono la lingua non capiscono gli intenti non li proteggono non li aiutano e quindi è molto facile per i Borbone mandare l'esercito ma anche i contadini calabresi attaccano i fratelli Bandiera che vengono immediatamente fucilati segno che Mazzini ha tante belle speranze però anche all'atto pratico le sue idee fanno un po' fatica a prendere piede perché? perché l'Italia è molto diversa è molto divisa è davvero difficile tradurre in atto questi intenti le idee di Mazzini furono sicuramente quelle che ebbero maggior successo l'idea di Mazzini era quello di creare poi un'Italia unita repubblicana quindi cacciare tutti i sovrani è abbastanza accentrata democratica e accentrata quindi qualche partita dell'autonomia per i comuni ma in realtà uno stato unitario proprio per questa idea di unire e sempre unificare però le idee di Mazzini non sono le uniche che si sparagono nell'Italia degli anni 40 50 dell'ottocento e che alimentano il dibattito pubblico le idee di Mazzini sono quelle più di sinistra diciamo ma ce ne sono anche di moderate in particolare ci sono anche alcuni esponenti cattolici che iniziano a pensare a un'Italia unita ci sono personaggi come Mazzoni ad esempio le sanno Mazzoni l'autore di Promessi Sposi c'è Rosmini ce ne sono altri ma in particolare ad un certo punto emerge una corrente che viene chiamata corrente neo-welfa che vorrebbe un'unità dell'Italia non più in chiave rivoluzionaria quindi non con moti popolari ma diretta dall'alto e a guida papale addirittura neo-welfa vuol dire quello il principale esponente è un intellettuale importante all'epoca che si chiama Vincenzo Gioberti che nel 1843 scrive un testo che ha un certo successo che si intitola Primato morale civile degli italiani questo libro oltre a dire gli italiani devono guidare l'Europa con il loro appunto primato morale civile ipotizza la nascita in un'Italia unita in una forma un po' particolare dice sfruttando la forza dell'esercito sabaudo cioè di Savoia e soprattutto la grande dirittura morale del Papa che è un esempio per tutta Europa dovremmo creare un'Italia unita e confederale quindi una confederazione di stati dove c'è il Piemonte c'è Venezia c'è lo stato della chiesa eccetera quindi con grandi autonomie locali ma la presidenza di questa confederazione deve essere affidata secondo Gioberti al Papa che in quanto leader morale dell'Italia poteva guidare questa Italia unita da torno dice Gioberti l'unica cosa che unifica davvero gli italiani è la religione la lingua è diversa gli usi e tradizioni sono diversi l'unica cosa che ci unifica è la religione e quindi facciamo capo insomma garante di questa unità il Papa l'idea di Gioberti è molto velitaria in realtà perché il Papa non ne vuole sentire parlare di liberalismo in questa fase almeno di liberalismo di divisione dei poteri eccetera poi intanto viene avanzata dall'anno dopo nel 1944 esce un ulteriore libro che si chiama Le speranze d'Italia scritto da Cesare Balbo un altro esponente del neo-wealthismo italiano che corregge un po' il tiro dicendo sì bella questa idea ma bisogna tenere conto anche degli austriaci e bisognerebbe fare in modo di spostare l'interesse austriaco al di fuori dell'Italia magari verso i paesi slavi in modo che l'Italia possa configurarsi a chiudere il trittico diciamo di riflessioni moderate sull'Italia arriva poi nel 1946 Massimo Razeglio poi capo del governo piemontese che dice in un famoso libro che è gli ultimi casi di Romagna dice ma siete proprio sicuri la faccio breve di voler affidare la presidenza al Papa quando le varie regioni dello stato della chiesa sono amministrate così male piuttosto meglio affidarsi alla forza dell'esercito sabaudo e meglio soprattutto arrivarci un passo alla volta con grande gradualità insomma le opinioni sono diversificate sul fronte moderato ma quindi c'è l'idea massiniana che è una repubblica democratica e accentrata c'è l'idea moderata che è una confederazione a guida papale o al limite sabauda c'è anche una terza linea una terza via che è quella portata avanti da Carlo Cattaneo un intellettuale milanese minoritaria perché è meno successo delle altre due però c'è Cattaneo dice dobbiamo fare un altro modo dobbiamo fare una repubblica quindi è d'accordo con Massini ma una repubblica federale mentre Massini voleva una repubblica accentrata con Roma capitale e quindi qualche piccola autonomia locale ma poche Cattaneo invece dice no se vogliamo unire l'Italia dobbiamo tenere presente che l'Italia è molto diversificata che ci sono regioni molto diverse tra loro quindi sia la repubblica sia la democrazia ma sia anche il federalismo in modo che ogni regione ogni zona possa avere una propria storia Cattaneo è direttore di una celebre rivista lombarda che è il Politecnico e fautore anche di una filosofia molto pragmatica pratica moderna all'inglese tutte queste speranze sembrano avere uno slancio ultimo tra il 1846 e il 1848 cosa accade? nel 1846 viene eletto un nuovo Papa che prende il nome di Pio IX si chiama Giovanni Maria Mastai Ferretti come me ricogniamo vescovo Limola arcivescovo Limola che viene eletto Papa e all'inizio nei primi mesi di pontificato questo Pio IX sembra molto aperto alle istanze liberali o comunque moderne perché ad esempio appena eletto Varon Amnistia per i detenuti politici allenta la censura sulla stampa e convoca una consulta di Stato cioè una sorta di piccolo parlamento delle varie province dello Stato della Chiesa cosa che fa ben sperare i neo-welfi che dicono vedete finalmente abbiamo un Papa che è aperto alla modernità che possiamo con cui si può parlare anche di un progetto di unificazione quindi viene salutato molto bene questo avvento di Pio IX ripeto almeno all'inizio e poi nel 1947 c'è una crisi economica a livello europeo che spinge a rivolte vi ricordate che nel 1948 le rivolte non riguardano solo l'Italia ma riguardano tutta l'Europa e proprio nel 1947 sulla scorta di questa crisi economica si inizia a progettare e poi realizzare una prima lega doganale cioè un accordo tra stati che sono il Piemonte la Toscana e lo Stato della Chiesa per togliere i razzi doganali cioè le tasse che si pagano le merci quando passano da uno stato all'altro questa lega doganale veniva vista come il primo passo verso una possibile non dico unificazione ma almeno un possibile avvicinamento tra gli stati quindi buoni segnali e arriva però così con questi buoni segnali il 1848 il 48 italiano partì di nuovo da Palermo dove nel gennaio del 48 ci fu una rivolta di nuovo mescolando speranze autonomiste a propositi di costituzioni eccetera il re di Napoli Ferinano II Borbone preso la sprovvista e anche per il carattere molto ampio di questa protesta decise di promettere e concedere la costituzione ma visto che in tutta Europa si stava ribellando un po' alla volta e che sembravano che sembrava che la situazione potesse degenerare nel giro di poche settimane anche tanti altri sovrani italiani decisero di concedere anche preventivamente la costituzione visto che il Sicile era già scoppiata la rivolta e poteva scoppiare altrove forse era meglio frenare prima che nascessero le rivolte appunto con delle concessioni lo fece Leopoldo II di Toscana lo fece Pio IX nel regno nello stato della chiesa lo fece soprattutto Carlo Alberto di Savoia che nel frattempo è diventato re quello che era stato il reggente nei voti del 2021 Carlo Alberto in particolare nel marzo del 48 concede una costituzione che passa alla storia come lo statuto albertino che sarà poi la costituzione dell'Italia Unita una costituzione molto moderata basata come principi su quella francese del 1830 che prevedeva un parlamento bicamerale una camera di deputati un senato del regno la camera elettiva eletta dal popolo anche se datava un suffragio molto molto ristretto quindi votavano in pochissimi e un senato invece di nomina regia e il governo quindi divisione dei poteri parlamento una parte e governo l'altra il governo rende conto solo al sovrano quindi in realtà non è una divisione equa dei poteri perché il sovrano guida il governo e controlla uno dei due rami del parlamento però insomma è già qualcosa rispetto all'epoca a cui si era abituati e per il momento sembra che le cose possono andare bene ma sempre quegli stessi giorni sempre nel marzo del 48 la rivolta si sta espandendo tutta Europa è la primavera dei popoli anche nello stato austro-ungarico nell'impero austro-ungarico ci sono grandi rivolte ricordate Praga Budapest Vienna stessa e a quel punto Milano e Venezia che sono due città che stanno sotto l'impero austriaco perché il Lombardo-Veneto appartiene all'impero austriaco provano a ribellarsi la prima a ribellarsi è Venezia che il 17 marzo del 1848 devia una rivolta rivolta a parte nel tentativo di ottenere la scarcerazione di alcuni leader democratici in particolare il principale capo si chiama Daniele Manin ma diventano insurrezione vera e propria e nel giro di pochi giorni Manin proclama la rinascita della Repubblica Veneziana la Repubblica era morta nel 1797 quindi 50 anni prima con il Trattato di Campoformio di Napoleone adesso rinasceva il giorno dopo il 18 marzo si ribella anche Milano ci sono le famose celebre 5 giornate di Milano in cui il popolo scende in piazza in strada per combattere contro gli austriaci ci sono le barricate c'è il popolo tutto quindi borghesi operai che combattono insieme anche alcuni aristocratici di stampo liberale che combattono per cacciare gli austriaci l'esercito del maresciallo Radezchi che è il capo in loc costretto alla ritirata si rifugia nella zona del lago di Garda e Milano anch'essa si proclama libera dagli austriaci si forma un consiglio provvisorio di guerra dove ci sono sia esponenti dell'aristocrazia liberale milanese sia anche lo stesso Cattaneo quello che citavo prima il federalista però Milano non sa bene ancora che di sinora la Venezia si è riformata momentaneamente la repubblica ma cosa accadrà? ecco proprio a questa domanda tenta di rispondere Carlo Alberto di Savoia perché a quel punto il Piemonte decide di iniziare una guerra contro gli austriaci nasce la cosiddetta prima guerra di indipendenza perché il Piemonte attacca l'Austria perché per vari motivi primo motivo Carlo Alberto è incalzato dagli liberali piemontesi che dicono gli austriaci sono in difficoltà sono cacciati da Milano sono cacciati da Venezia sono in difficoltà a Praga a Bura a Pesta a Vienna è il momento buono per dargli la spallata e iniziare a condurre un progetto di unificazione italiana l'esercito Sabaudo era il più forte generalmente ritenuto in Italia e poteva partire secondo motivo Carlo Alberto aveva sempre avuto un certo interesse verso la Lombardia che era una regione molto ricca adesso era libera poteva essere abbastanza facile ammetterla terzo motivo visto che non si sa bene quale sarà il destino della Lombardia e del Veneto se queste regioni dovessero darci un'impronta repubblicana questo sarebbe un problema per Carlo Alberto perché lui dice vedete se in Lombardia proclamano la Repubblica quando si vorrà perché anche in Piemonte qualcuno inizia a chiedere la Repubblica quindi bisogna impedire che nasca la Repubblica meglio annetterseli insomma nel marzo del 48 parte la prima guerra dell'indipendenza in Piemonte attacca gli austriaci in difficoltà e riceve anche soprattutto l'aiuto di altri stati italiani cioè Pio Nono da Roma Ferdinano II da Napoli Leopollo II da Firenze decino di mandare un aiuto cioè contingenti militari a favore di Carlo Alberto contro gli austriaci dando di fatto il via a una bella tappia guerra di unità nazionale perché a quel punto tutti insieme contro gli austriaci per cacciarli la guerra però va male perché perché Carlo Alberto non riesce a gestire bene le varie truppe è vero che penetra facilmente in Lombardia ma non riesce ad andare tanto oltre anche perché arrivano molti volontari anche volontari mazziniani torna ad esempio Garibaldi da Sud America ma Carlo Alberto non vuole usare questi democratici vuole metterli in disparte e in più dopo poco sia il Papa sia la Toscana sia Napoli e ritirano le loro truppe perché capiscono che Carlo Alberto sta lavorando non per l'unità italiana ma per i suoi tornaconti personali e infatti nel giro di poco tempo nel luglio del 48 arriva la prima grossa importante sconfitta per l'esercito piemontese a Custozza i piemontesi nel primo vero scontro veramente di rilievo della guerra vengono sconfitti e all'inizio dell'agosto del 48 firmano un primo armistizio dove rinunciano momentaneamente alle annessioni il 48 italiano però non è ancora finito perché è vero che Milano è ritornata sotto gli ostiaci ma ci sono ancora delle zone d'Italia in cui i rivoltosi stanno avendolo meglio la Sicilia è ancora in mano ai rivoltosi Venezia è ancora in mano a Manine e Suoi e per fine in Toscana si è formato un governo che sembra aperto alle riforme insomma è tutto ancora un po' in divenire e in particolare verso la fine del 48 scoppia un caso a Roma il primo ministro del Papa un certo pellegrino Rossi viene ucciso in un attentato e questo convince Pio Nono a scappare da Roma preoccupato per la sua salute e per la sua vita lascia Roma e si rifugia a Gaeta nella fortezza di Gaeta protetto dai Borbone di Napoli questo lascia a campo libero a Roma per i rivoluzionari perché adesso che non c'è più il Papa c'è un vuoto di potere e di fatto si forma all'inizio del 49 un'assemblea costituente eletta a soffragio universale maschile che deve scrivere una nuova costituzione per Roma e per i territori romani e questa assemblea costituente dichiara subito decaduto il potere temporale dei Papi quindi fine e la nascita della cosiddetta Repubblica Romana quindi rivoluzione una nuova Repubblica a Roma corrono tantissimi patrioti corre Mazzini che diventa un leader della Repubblica Romana corre Garibaldi che diventa leader militare della Repubblica Romana corre Goffredo Mamelli l'autore dell'Inno Saffi e tanti altri Armellini e altri ancora tanti patrioti accorrono a Roma quindi sembra che le cose possano andare tra l'altro anche in Toscana visto quello che è accaduto a Roma il Gran Duca Leopoldo II pensa che sia meglio cambiare aria scappa e anche lì si forma un governo d'emergenza un triunvirato di stampo rivoluzionario quindi sembra che dopo questa piccola interruzione in realtà il 48 in realtà siamo già nel 49 stia proseguendo piuttosto bene per i rivoluzionari che sia tutto ancora aperto questo spinge Carlo Alberto di nuovo nel 49 a riprendere la guerra contro l'Austria perché l'aveva interrotta ma adesso capisce che la situazione potrebbe anche sorgire di mano riprende questa guerra la guerra va molto male di nuovo incassa una sonora sconfitta di nuovo nella battaglia di Novara e questa volta Carlo Alberto deve cedere firma una pace a tutto vantaggio degli austriaci ed è costretto anche ad abdicare in favore del figlio che si chiama Vittorio Emanuele II quello che poi una decina di anni più tardi abbondanti guiderà l'unificazione vera dell'Italia questo Vittorio Emanuele II reprime alcuni moti ad esempio a Genova che scoprano poco dopo e si mette l'animo in pace per il momento nel frattempo gli austriaci reprimono anche loro i loro moti mettono a ferro e fuoco Milano reprimono dei moti anche a Brescia ci sono le famose dieci giornate di Brescia e poi passano a occuparci di Venezia dove c'è ancora la rivoluzione c'è ancora Manin e iniziano ad assediare Venezia sarà un assedio lungo terminerà solo ad agosto del 49 ma alla fine ce la faranno e riconquisteranno anche Venezia quindi al nord fallisce tutto sostanzialmente dal centro cosa accade a Roma soprattutto perché alla fine è soprattutto Roma il problema lì la Repubblica Romana resiste all'inizio per qualche settimana si inizia a scrivere questa Costituzione che verrà varata proprio negli ultimi giorni prima della caduta della Repubblica Romana una Costituzione molto moderna che per certi versi anticiperà la Costituzione dell'Italia di oggi quella del 1948 di un secolo dopo tra l'altro Mazzini va da anche alcune riforme importanti ad esempio una riforma agraria che requisisce terra e la Chiesa le redistribuisce però anche questa Repubblica Romana fa un po' fatica a salimpieri soprattutto perché il Papa Dagaeta inizia a chiedere aiuto alle varie potenze europee dice guardate che mi hanno scippato il territorio intervenite a questi appelli del Papa rispondono varie potenze europee ma in particolare risponde la Francia in Francia se ricordate quello che accade in descrizione vi metto un link c'è stata una rivoluzione anche lì nel 1948 che si è conclusa a fine 1948 con la vittoria alle elezioni per la presidenza della Repubblica di Luigi Napoleone Bonaparte il futuro Napoleone III che è stato eletto all'interno della Repubblica Borghese presidente della Repubblica però vuole accreditarsi agli occhi dei cattolici francesi e quindi dice intervengo io per difendere il Papa vanno con in gente che inizia ad attaccare Roma per liberarla dai rivoluzionari e alla fine effettivamente dopo una lunga resistenza romana alla meglio Roma viene restituita al Papa i vari rivoluzionari romani scappano si danno alla fuga qualcuno come Garibaldi tenterà anche di raggiungere Venezia perché Roma cede a luglio Venezia cede ad agosto del 49 ma non ci arriverà non riuscirà più di tanto perché tra l'altro Anita Garibaldi muore nelle paludi di Comacchio insomma finisce molto male è un fallimento questo 48-49 italiano come abbiamo visto anche prima tra l'altro anche Leopoldo II ritorna in Toscana c'erano state grandi speranze c'erano state anche all'inizio grandi vittorie grandi slanci Milano aveva cacciato gli austriaci Venezia aveva cacciato gli austriaci Roma si era data una sua fisionomia ma nel medio periodo queste rivolte non prendono piede perché perché certo a volte partono bene coinvolgendo in parte anche il popolo ma si fa fatica nel medio e lungo periodo a coinvolgerlo davvero e poi davanti all'intervento di potenze straniere come l'Austria come la Francia questi governi rivoluzionari non hanno la forza di restare in piedi gli anni 50 furono quindi anni piuttosto duri per i patrioti italiani la sconfitta del 48-49 pesò come un macigno anche se si continuò a sperare che prima o poi qualcosa si sarebbe smosso i primi segnali importanti arrivarono dal Piemonte dove negli anni 50 è emersa una nuova figura che non aveva avuto nessun ruolo negli anni precedenti ma che divenne fondamentale la figura di Camillo Benso Conte di Cavour questo politico intellettuale imprenditore e nobile piemontese divenne infatti il capo del governo prima divenne ministro dell'agricoltura poi nel giro di poco tempo capo del governo a partire dal 52 perché il re Vittorio Emanuele II mantenne in vita lo statuto albertino del padre varrato dal padre quindi diede un certo potere al governo e Cavour iniziò a usare questo potere di capo del governo in maniera anche abbastanza nuova perché vi ho detto prima che lo statuto prevedeva che il governo rispondesse solo al sovrano Cavour invece varò una prassi che era quella di recarsi anche in Parlamento che appunto lo statuto aveva istituito e chiedere anche la fiducia del Parlamento in modo da avere una base di consenso più ampia e poter varare importanti riforme questo lo fece anche consapevole della necessità di allargare appunto questa base parlamentare infatti fu protagonista del primo tra virgolette possiamo anche chiamarlo così inciuccio della storia della politica italiana è così detto connubio perché strisce un'alleanza con Urbano Rattazzi che era il leader dell'opposizione mettendo insieme il centro-destra che era diciamo la fazione politica guidata da Cavour col centro-sinistra che era la fazione politica guidata da Rattazzi ed escludendo quindi le ali cioè l'estrema destra e l'estrema sinistra in modo da creare una sorta di grande maggioranza di centro che avesse anche alcune aperture riformiste e permettesse dei cambiamenti in effetti il Piemonte negli anni 50 fu protagonista di grandi cambiamenti politici economici e sociali partiti già in realtà col governo precedente a quello di Cavour col governo di Massimo Razzeglio ad esempio ci fu una forte spinta alla laicizzazione del paese il Piemonte aveva ancora alcune leggi di vecchio stampo che davano grandi autonomie alla chiesa invece la legge Sicardi in particolare laicizzò abbastanza pesantemente il paese ma poi Cavour cercò anche di rinnovare l'economia piemontese facendo grandi investimenti nell'agricoltura lui stesso era proprietario terriero che aveva il mito anche dell'Inghilterra degli investimenti dell'imprenditoria inglese e quindi varò grandi riforme in questo campo e poi soprattutto costruì una grande rete ferroviaria che permetteva soprattutto gli scambi con l'estero soprattutto tramite il traforo refrejus e il volume degli scambi con l'estero del Piemonte crebbe enormemente divenne il più alto d'Italia ma anche con un certo slancio e in giro per pochi anni sostanzialmente tra politiche di libero scambio abolizione di tassi doganali sul grano ferrovie eccetera il Piemonte divenne la prima potenza economica italiana arrivando a rivaleggiare senza tanti problemi con la Lombardia che fino a quel momento invece era stata molto più avanzata del Piemonte questo doveva diventare il volano di un nuovo ruolo del Piemonte che non era più solo una grande potenza militare ma si presentava come una grande potenza economica anche in grado di guidare un processo di eventuale unificazione lo stesso Cavour aveva una sua rivista chiamata Il Risorgimento dove da tempo parlava di un progetto di unificazione italiana nel giro di poco tempo Cavour riuscì a conquistare le sue idee anche molti dei patrioti risorgimentali che abbiamo citato prima perché perché ad esempio Daniele Manini il leader della Repubblica Veneziana era scappato e si era rifugiato proprio in Piemonte Piemonte aveva accolto molti di questi ex capi rivoluzionari che però avevano fallito avevano visto tramontare le loro idee e aveva garantito anche un certo margine di libertà in fondo lo statuto albertino permetteva libertà di parola permetteva l'associazionismo eccetera anche gli stessi mazziniani non proprio mazzini ma i suoi adepti all'interno dello stato piemontese avevano trovato un po' di margine fondando soprattutto società di mutuo soccorso cioè associazioni di lavoratori in cui ci si aiutava a vicenda c'erano delle casse comuni per sostenersi nel momento del bisogno degli infortuni della pensione eccetera ma anche facendo attività politica queste società di mutuo soccorso dovevano diventare in Piemonte in Niguria che facevano parte dello stato sabaudo il primo movimento per una nuova azione politica che Mazzini voleva rilanciare lui stesso si era trasferito a Ginevra in Svizzera ed aveva fondato un vero e proprio partito chiamato partito d'azione che doveva essere il volano appunto di nuove iniziative ma lo stesso Mazzini era rimasto abbastanza duramente colpito dal fallimento del 48-49 se Mazzini era davvero stato per molto tempo il leader ideale del movimento risorgimentale italiano adesso anche i Mazzini non sanno bene come muoversi certo creano queste associazioni creano questi partiti ma sembrano non avere più lo slancio perché sembrano avere la strada spianata per fare qualcosa tanto è vero che più che i Mazzini a darsi da fare negli anni 50 sono i socialisti o meglio alcuni Mazzini che si aprono ad idee socialiste visto che in Europa si sta diffondendo il socialismo in particolare due si chiamano Ferrari e Pisacane e soprattutto Pisacane diventa protagonista di un'iniziativa un po' sfortunata nel 1857 partendo proprio da Genova Pisacane dirotta un piroscafo e lo porta verso l'isola di Ponza di fronte al centro Italia dove c'era un carcere attacca il carcere libera alcune decine di detenuti e li porta con sé verso il regno di Napoli desideroso di arrivare nel regno di Napoli con questi detenuti far partire una rivoluzione di stampo socialista cacciare i Borbone e da lì fare partire un processo di unificazione questa volta democratico socialista eccetera un po' il modello dei fratelli Bandiera qualche anno dopo con nuove idee politiche in mente solo che come è andata male l'impresa dei fratelli Bandiera in Calabria così va altrettanto male l'impresa di Pisacane in Campania perché quando arriva in Campania la popolazione locale che lo vede arrivare con queste frotte di ex detenuti riconosce molti di questi ex detenuti dei briganti locali e soprattutto non capisce il progetto politico di questo Pisacane queste idee sono idee di intellettuali che fanno fatica per il momento a comunicarle a una massa contagione italiana che è poco istruita poco anche politicizzata e di fatto Pisacane viene spazzato via dal regercito borbonico ma anche dai stessi contadini che si schierano al fianco del regercito borbonico e finisce quindi in tragedia segno che queste rivolte sembrano essere davvero velleitarie questo spinge l'ulteriore spinta a far sì che in Piemonte si formi quella che verrà chiamata una società nazionale cioè alcuni patrioti ex mazziniani ex democratici eccetera dicono mettiamo a parte per il momento i nostri propositi di una unificazione democratica socialista eccetera alleiamoci con i Savoia con Vittorio Manuel II con Cavour e facciamo intanto un'unità mettiamo da parte la politica facciamo un'unificazione poi magari in un futuro penseremo alla politica ma intanto prioritaria è l'unificazione mettendo da parte le varie differenze politiche nel frattempo Cavour aveva cominciato a muovere le sue pedine perché nel 1853 era scoppiata nell'est Europa una guerra tra Russia e l'impero ottomano la cosiddetta guerra di Crimea sulla quale i vari stati europei avevano messo gli occhi perché dal congresso di Viene era uscito un meccanismo di controllo di equilibrio reciproco tra gli stati europei e anzi i grandi paesi l'Austria la Francia l'Inghilterra dovranno garantire l'equilibrio soprattutto ora se la Russia avesse sconfitto l'impero ottomano che era effettivamente in crisi la Russia sarebbe fortemente rafforzata nella zona e questo avrebbe creato scompensi pertanto le varie potenze europee vorrebbero intervenire a favore l'impero ottomano per bloccare l'espansionismo russo lo vorrebbe fare la Francia lo vorrebbe l'Inghilterra chiedono soprattutto all'Austria rifarlo ma l'Austria non sembra intenzionata a farlo perché l'Austria aveva tutto l'interesse a che si indebolisse ulteriormente l'impero ottomano perché anche l'Austria guardava ai possedimenti ottomani Cavour si mette in mezzo a questa faccenda dicendo mando io degli uomini ad aiutare gli ottomani infatti nel 55 il Piemonte entra in guerra mandando un corpo di 15.000 uomini contro i russi per poterci sedere l'anno dopo nel 56 al tavolo della pace al congresso di Parigi nelle trattative per la pace e quando Cavour fa sta cosa che il Parlamento piemontese non capisce che interesse poteva avere il Piemonte all'est Europa la Crimea al Mar Nero eccetera Cavour però arriva al tavolo di Parigi dicendo guardate noi abbiamo partecipato ma vi faccio presente che la situazione è caotica per colpa dell'Austria avete chiesto di aiuto all'Austria e l'Austria non vi ha aiutato io sì ma l'Austria tra l'altro crea scompiglia anche in Italia fa presente questa situazione a Cavour perché? perché l'Austria controlla il Lombardo-Veneto ma poi indirettamente ha truppe anche nei territori della Romagna papale eccetera e in questi territori mal amministrati dal Papa e dall'Austria cosa succede? che si fomenta la rivolta la Romagna è la zona più calda d'Europa per rivolte proteste eccetera e poi i rivoluzionari che partono dalla Romagna si espandono in tutta Europa e quando dice queste cose Cavour fa notare anche a Napoleone III che è tutto interesse della Francia a tenere tranquilla l'Italia in effetti Napoleone III lo sa molto bene perché pochi mesi dopo la fine della conferenza di pace di Parigi subisce un famoso attentato da parte proprio di un romagnolo che si chiama Felice Orsini che gli butta contro delle bombe contro la sua carrozza Napoleone III si salva ma Napoleone III dice ma vuoi vedere che questo Cavour aveva ragione anche alcuni anni prima un altro romagnolo aveva tentato la vita di Napoleone III perché i romagnoli ce l'hanno con Napoleone III perché Napoleone III ha mandato le truppe contro la Repubblica Romana nel 49 quindi è la vendetta contro la Repubblica Romana ma Napoleone III capisce che la Romagna è una zona troppo calda e che è mal gestita dal Papa Cavour dice se la gestissimo noi sarebbe una terra pacifica vedete vedete mai rivoluzionari che partono dal Piemonte no perché noi governiamo bene partono dalla Romagna perché l'ha governata male e allora sarebbe anche vostra utilità e vostro vantaggio farci governare la Romagna questo è quello che Cavour inizia a dire effettivamente alla fine Napoleone III si convince e firma nel luglio del 58 un accordo con Cavour sono gli accordi di Plombier famosi in cui si dice sostanzialmente che se dovesse scoprire una guerra di indipendenza in Italia la Francia entrerebbe in gioco a sostegno del Piemonte contro gli austriaci per creare una nuova Italia senza austriaci divisa in tre parti questo è previsto per gli accordi un nord Italia Piemonte più Lombardo Veneto più Emilia Romagna in mano ai Savoia un centro Italia cioè Toscana Lazio Umbria Marche eccetera in mano al Papa un sud Italia più o meno lo stato di Napoli lo stato di Sicilia ma senza i Borbone e questa Italia indipendente presidenza sarebbe data al Papa ma comunque sotto l'egemonia francese questi sono gli accordi Cavour ha trovato quindi un alleato per poter fare guerra all'Austria però non può essere lui a provocare la guerra perché l'accordo prevede che la Francia entri in gioco solo se il Piemonte venisse attaccato quindi Cavour deve trovare un casus belli Cavour diede ordine ai calcettori delle Alpi di Garibaldi di muoversi lungo il confine preoccupando gli austriaci ed effettivamente a tirare una trappola degli austriaci che nella primavera del 59 dichiararono guerra al Piemonte questo provocò l'entrata in guerra della Francia e lo scoppio di quella che passerà alla storia come la seconda guerra di indipendenza dopo la primavera del 48-49 questa volta Franco-Piemontesi vanno forte ottengono grandi vittorie vincono a Magenta si aprono la storia verso Milano arrivano anche a un duro scontro contro gli austriaci nella famosa battaglia di San Martino e Solferino che viene vinta dai francesi e dai piemontesi ma è una battaglia estremamente sanguinosa cosa che convince Napoleone III a ritirarsi cioè è vero che stanno vincendo stanno ottenendo grandi risultati ma ne vale veramente la pena la Francia non ha grandi interessi l'opinione pubblica francese fa pressione contro Napoleone III perché non vuole vedere perdere tutte quelle vite che si stanno perdendo in Italia quindi nell'estate del 59 nel luglio del 59 Napoleone III a sorpresa tradisce in un certo senso Cavour e firma una pace separata con l'Austria l'amistizio di Villafranca tramite cui c'è un accordo per cui l'Austria accede alla Francia alla Lombardia che viene poi girata al Piemonte ma la guerra finisce quindi l'Austria si terrebbe il Veneto e soprattutto non si riuscirebbe a unificare l'Italia perché è presa solo la Lombardia che è tanta roba ma non è quello che aveva in mente Cavour lo stesso Cavour si dimette per protesta per questo fallimento di fatto quello che viene percepito come un fallimento ma cosa succede nel frattempo che la Toscana e l'Emilia Romagna si ribellano perché visto quello che stava accadendo in Lombardia dicono è il momento buono per far scattare l'unificazione e questi ribellioni sembrano non fermarsi sembra che Toscana e l'Emilia Romagna vogliono chiedere l'annessione al Piemonte cosa fa adesso Napoleone III interviene o non interviene non vorrebbe più intervenire bisogna trovare una soluzione a questa cosa e Cavour riprende in mano il pallino della situazione va di nuovo da Napoleone III e gli offre un accordo dice in cambio ti do Nizia la Savoia che le aveva già promesse con gli accordi di Plombier e tu permetti l'annessione al Piemonte di Toscana e l'Emilia Romagna tramite i plibisciti Napoleone III dà il suo assenso e in giro di poco Toscana e l'Emilia passano sotto il Piemonte che quindi è unificato diciamo il nord Italia sostanzialmente il centro nord rimane da riprendere però il sud a questo punto due mazziniani che si trovavano anche loro protetti in Piemonte di origine siciliana cioè Rosolino Pilo e Francesco Crispi organizzarono una sommossa nel sud perché bisognava anche far partire dal sud un movimento per tentare questa unificazione e convinsero soprattutto un altro canale mazziniano Garibaldi a mettersi alla guida di un'impresa che doveva partire da Genova da Quarto in particolare puntare sulla Sicilia liberare la Sicilia e patentare la risalita dell'Italia l'operazione venne sconsigliata da Cavour che non temeva che sarebbe fallita e soprattutto che avrebbe provocato l'entrata in guerra della Francia e non voleva ma pare che Vittorio Emanuele II in realtà la vedesse con un certo favore cioè senza mettersi in mezzo il Piemonte lasciò fare vediamo come va a finire se va a finire bene ci prenderemo quelle terre se va a finire male diremo che noi non c'entravamo che ha fatto tutto Garibaldi e vediamo come va l'impresa parte nel 1860 nell'aprile del 60 Garibaldi con un migliaio di volontari i famosi Mille parte appunto le camicie rosse da quarto arriva in Sicilia sbarca Marsala affronta l'esercito borbonico in un primo scontro a Calatafimi e vince a sorpresa nonostante l'esercito borbonico sia molto più numeroso di quello Garibaldino che sono appena mille uomini ma proprio la vittoria di Calatafimi più l'insurrezione di Palermo che insorge in quelle stesse settimane grazie anche al lavoro di Pilo fanno sì che l'esercito Garibaldino si ingrossi molto prende volontari siciliani poi ne arrivano altre migliaia dal nord e facilmente Garibaldi inizia a liberare la Sicilia tra l'altro diventa prende la guida politica della Sicilia proprio Crispi che ritroveremo più avanti nella storia che inizia a varare alcune riforme per ringraziarsi il popolo abbassa il carico fiscale dà alcune terre ai volontari Garibaldini ma questo alimenta le speranze dei contadini siciliani che pensano che siano arrivati i liberatori non tanto i Savoia ma quelli che libereranno i popoli contadini siciliani dai baroni che da secoli sfruttano i contadini siciliani questo fa sì che in varie parti della Sicilia partano movimenti diciamo rivoluzionari veri e propri quasi socialisti di cacciata dei nobili e questo preoccupa molto i possidenti siciliani che chiedono a Garibaldi di mettere fine a queste proteste perché dicono noi sta anche bene che ci hanno entiati al Piemonte ma non vogliamo la rivoluzione non vogliamo perdere le terre Garibaldi scende a compromessi con i possidenti e decide di reprimere le rivolte in particolare c'è un fatto famosissimo quello di Bronte Bronte è un paesino vicino all'Etna lì la popolazione locale aveva attaccato i palazzi baronali aveva ucciso alcuni notabili c'era dato proprio una sorta di giaccheri Garibaldi manda il suo braccio destro Nino Bixio a reprimere questa rivolta da una repressione feroce nel senso che Nino Bixio mette a morte tutti i capi di questa rivolta con processi sommari segno che Garibaldi pur di origine mazziniana pur di origine democratica adesso ha messo da parte i suoi ideali stessi perché come si era visto con la società nazionale ritiene che la priorità sia l'unità d'Italia e quindi non bisogna inimicarsi in questo momento i possidenti perché altrimenti l'unità salta detto questo Garibaldi conquista altri territori in Sicilia sbarca nel sud Italia risale dal sud Italia e arriva facilmente a Napoli e quando arriva a Napoli si blocca momentaneamente viene raggiunto a Napoli da vari leader democratici lo stesso Mazzini Cattani eccetera e lì c'è un momento di stallo in cui non si capisce bene cosa voglia fare Garibaldi perché da Napoli o si ferma lì e si tenta all'unificazione lasciando in pace il Papa o può puntare su Roma Cavour è preoccupatissimo che Garibaldi decida di puntare su Roma perché se Garibaldi che pure era stato nella Repubblica Romana insieme al proprio Mazzini attaccasse Roma allora lì sicuramente entrerebbe in gioco la Francia Napoleone III interverrebbe e tutto quello che si è fatto in questi mesi potrebbe fallire perché con l'esercito francese l'esercito Sabaudo non può competere allora preoccupato che Garibaldi attacchi Roma e quindi porti in gioco la Francia Cavour decide di reagire chiede l'assenso a Napoli III e manda il re Vittorio Emanuele II andare incontro a Garibaldi passando attraverso lo stato della chiesa ma non toccando Roma quindi passando per gli Abruzzi effettivamente l'esercito Sabaudo scende l'Italia c'è un incontro celeberrimo a Teano tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II in cui Garibaldi di fatto consegna al re Isulitalia Isulitalia liberato che viene annesso nel giro di poche settimane tramite dei plebisciti al regno Sabaudo fatto questo Garibaldi si ritira nell'isola di Caprera vicino alla Sardegna a vita privata poi ritornerà in scena un paio di volte ma dopo ma rifatto nel 1860 l'unità è conclusa nel marzo del 1861 poi viene proclamata ufficialmente dopo tutti i plebisciti la nascita del regno d'Italia l'unificazione d'Italia è completata mancano due pezzi importanti Roma il Lazio che verrà conquistato nel 1870 tramite la breccia di Porta Pia e così via e il Veneto il Triveneto il Veneto stesso verrà conquistato nel 1866 con la terza guerra di unipendenza ma il Trentino Alto Adige e la Venezia Giulia cioè la zona di Trieste e Gorizia verranno conquistate solo alla fine della prima guerra mondiale nel 1918 ecco questo è il percorso del risorgimento italiano poi su Roma sul Veneto sarebbero altre cose da dire ma in un'ora non ce la faccio quindi accontentatevi per il momento di questo c'è a dire che fu un'unificazione varata su due direttrici dall'alto e dal basso cioè l'iniziativa di Cavur soprattutto dall'alto l'iniziativa Garibaldina dal basso poi però a vincere fu un'iniziativa dall'alto nel senso che Garibaldi cerette tutto al re e alla fine di fatto l'unificazione italiana può essere vista anche come una serie di annessioni di espansioni del Piemonte questo non si vede da vari indizi ad esempio la legge italiana fu la legge piemontese semplicemente lo statuto albertino i vari ordinamenti del Piemonte vennero estesi a tutta Italia il nuovo re d'Italia Vittorio Emanuele II scelse addirittura di non cambiare la numerazione del suo nome come si fa normalmente quando si acquisisce un nuovo territorio un nuovo stato ma di proseguire continuando a farsi chiamare Vittorio Emanuele II come se appunto il Regno d'Italia non fosse altro che un'estensione un allargamento del Regno Sabauro e queste caratteristiche rimarranno nei primi decenni dell'Italia Unita un'Italia piemontese in cui tutti i posti di comando sono in mano i piemontesi i prefetti mandati in giro per l'Italia sono i piemontesi quindi hanno vinto il Savoia sostanzialmente ha vinto Cavour che però non si godrà molto la vittoria perché morirà in giro di poco tempo gli sconfitti sono i democratici i massimiani che avevano sperato di creare un'Italia repubblicana non ci sono riusciti sono anche i cattolici che avevano sperato di mettere il Papa alla guida dell'Italia non ci sono riusciti anzi tra Papa e Stato italiano inizierà un lungo contenzioso ma questa è l'unificazione e abbiamo detto tutto quello che c'era da dire in descrizione trovate i titoletti che sono comparci in cui mentre spiegavo per ascoltare un pezzo per un altro della spiegazione trovate i link a tutti i video più estesi sull'Unità d'Italia e anche poi sulla presa di Roma sul Veneto e su altre questioni dei primi anni dell'Italia Unita se volete poi approfondire in più trovate i link ai social network il link alla newsletter se volete rimanere in contatto e poi anche i modi per sostenere il canale se vi piace quello che facciamo se vi è utile e se volete darci una mano basta il timer dice che abbiamo finito dovremmo essere stati se ho fatto bene i conti nell'ora esatta ci vediamo presto per altri video di storia e filosofia educazione civica anche nel format di un'ora ciao alla prossima ciao